24 furti in bar delle province di Padova e Venezia, un bottino di 130 mila euro. La banda, composta da sei persone, cinque rumeni ed un moldavo che era latitante ed era ritornato nel suo paese, era specializzata in spaccate per sottrarre il denaro contenuto nelle slot machine dei locali pubblici che prendevano di mira dopo accurati sopralluoghi. Sono stati intercettati ed arrestati al termine di una curata indagine fatta di appostamenti e pedinamenti dai carabinieri di Venezia. Avevano la costante abitudine di fare dei sopralluoghi mirati ogni settimana avendo cura di oscurare le telecamere, i sistemi di videosorveglianza, disattivare i sistemi di allarme e tutto ciò che in qualche maniera poteva poi essere così da ausilio alle forze di polizia per riconoscerli. Avevano poi sempre questa abitudine di anche verificare prima se gli esercizi commerciali, avevano degli istituti di vigilanza e addirittura in qualche caso cronometravano le tempistiche per calcolare esattamente quanto tempo avessero a disposizione per fare i colpi. Avevano anche reinvestito i loro proventi nei paesi d'origine in qualche modo? Si tratta di persone romene per lo più, uno era moldavo che sicuramente avevano interessi con il loro paese d'origine e che frequentemente facevano la spola con il loro paese d'origine. Il comandante dei carabinieri di Venezia lancia un appello a non esitare a fare la denuncia. Purtroppo molto spesso chi subisce un furto ha un grosso senso di delusione, ha un grosso senso di subire una violenza, ha in qualche maniera la sensazione che persone così non verranno mai punite. Questa è la dimostrazione che invece con l'impegno, con la determinazione e la collaborazione di chi ci ha aiutato a ricostruire queste fasi di questa organizzazione criminale, è la dimostrazione che queste persone verranno punite e noi continueremo a cercare di contrastare questo antipatico e odioso fenomeno dei reati predatori.